Oggi è martedì 25 agosto 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 25 agosto 1960. Nello stadio olimpico, in questo giorno di 60 anni fa, si aprono i giochi della 17esima Olimpiade di Roma, che si svolgeranno fino all'11 settembre. Questa edizione delle Olimpiadi è ricordata negli annali dello sport per il grande numero di record mondiali e olimpici battuti, grazie al bel tempo che favorisce le alte prestazioni degli atleti. E anche per alcune vittorie particolari. Quella dell'etiope Abele Bichila, che vince la maratona correndo a piedi scalzi. Quella nei pesi medio-massimi del pugile Cassius Clay, che poi diventerà una leggenda dello sport e un'icona della controcultura statunitense, venendo dichiarato lo sportivo del secolo dal periodico Sports Illustrated, e cambierà il suo nome in Muhammad Ali, dopo aver aderito al movimento afroamericano Nation of High Islam. E poi i tre ori della statunitense Wilma Rudolph, detta la gazzella nera per il colore della sua pelle, è definita la regina delle Olimpiadi di Roma per aver vinto nei 100 e 200 metri piani e nella staffetta 4 per cento, pur correndo con un apparecchio ortopedico ai piedi, retaggio della poliomelite. Le Olimpiadi di Roma vedono la partecipazione di quasi 5.400 atleti, in rappresentanza di 84 nazioni. L'Italia si classifica al terzo posto nel medaliere dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, con 13 medaglie d'oro, 10 d'argento e 13 di bronzo. Diverse le imprese memorabili degli azzurri. Livio Berruti è il primo europeo a infrangere il dominio olimpico nordamericano nei 200 metri piani e vince l'oro eguagliando il tempo record mondiale. Nino Benvenuti inizia la sua grande carriera vincendo l'oro nei pesi Welter e la Coppa Val Berker come miglior pugile dell'Olimpiade. I fratelli Raimondo e Piero Dinzeo conquistano rispettivamente l'oro e l'argento nel concorso individuale a ostacoli di equitazione. Nella pallannuoto il settebello vince dopo 12 anni. Nel ciclismo gli azzurri si aggiudicano 5 ore e un argento su 6 specialità. Nel pugilato 3 ori e nella scherma 2. Edoardo Mangiarotti raggiunge le 13 medaglie in carriera stabilendo il record olimpico assoluto e quello a tutt'oggi imbattuto nella scherma. Roma si era giudicata l'organizzazione dell'edizione delle Olimpiadi del 1908, ma l'eruzione del Vesuvio di due anni prima portò alla rinuncia in favore di Londra. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto per renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.